qui agente 00bob in missione segreta pensa che devo portarmi anche dietro una persona che mi deve fare filmato doveva venire spilberg invece mi tocca fare tutto da me e che cazzo questa è una bici segreta dietro ha degli altri raggi e senti il suono segreto ragazzi adesso devo lavorare vuola 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 Grazie a tutti.